Ristorazione e nessun divieto di accesso alla ZTL per consegna e asporto Fino al 24 novembre, cioè fino alla scadenza dell'ultimo DPCM sull'emergenza sanitaria da Covid-19, non verranno le limitazioni nella ZTL per le attività di ristorazione che svolgono asporto e consegna a domicilio. E' quanto prevede un'ordinanza emessa oggi su input del sindaco Francesco Italia dal settore mobilità e trasporti. Il provvedimento agisce in deroga alle ordinanze del 2016 che affissano gli orari di accesso dei mezzi all'isolotto nei fini di settimana e nei festivi. In sostanza, le aziende di ristorazione che hanno sede fuori dalla ZTL e che devono accedervi per effettuare consegne e i clienti che intendono rifornirsi con modalità di asporto nelle attività di Ortigia potranno farlo anche negli orari in cui è in vigore il divieto di transito. Chi lo farà avrà 48 ore di tempo per informare la Polizia Municipale utilizzando la casella di posta elettronica dedicata a sporto covid-chiocciolacomune.siracusa.it Chi consegna dovrà indicare il nome dell'attività, l'orario di transito e il numero di targa del mezzo utilizzato. Chi acquista in Ortigia, oltre all'orario e alla targa, dovrà allegare la copia dello scontrino o della ricevuta fiscale. In tempi rapidi, commenta il sindaco Francesco Italia, abbiamo messo in campo una prima azione in favore dei ristoratori in special modo per quelli di Ortigia che a causa della ZTL rischiavano di subire un'ulteriore limitazione oltre a quelle previste dal governo. Cadono i divieti anche per chi consegna nell'isolotto e per evitare le sanzioni basterà una semplice comunicazione a un'apposita casella di posta elettronica. Questo è solo uno dei provvedimenti che la mia amministrazione mette in atto per affrontare la nuova ondata del Covid-19 la quale ci pone dinanzi a importanti problemi di ordine sociale ed economico. Come fatto già da marzo, opereremo in modo che nessuno debba sentirsi abbandonato.